Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro è l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza indipendenza Castrovillari. Succede tutto e di più, anche quello che non ti aspetti. Infatti nel girone Castrum perde la capolista Bayern Monaco, pareggia il Barça e l'Olimpiaco sprende 5 gol dai Falchi. Tutto riaperto e nulla di scontato. Cambio al vertice anche nel girone Villarum, dove comanda la Bianchino, tallonata da Red Devils ed Etero Gins. Poi regna l'equilibrio totale. Davvero incredibile questa seconda fase. La Red Bull, infatti, data per spacciata ad inizio fase, adesso è terza in classifica ed ha battuto per 1-0 il Bayern Monaco, che però cade in piedi e che ancora si gode la vetta della classifica. Tonfo davvero imprevisto, viste anche le proporzioni, quello dell'Olimpiacos, che perde 5-2 contro i Falchi trascinati da Mr. Graziano Nocera, vanificando la bella prestazione contro gli All Blacks nella passata settimana. Prima vittoria per 2-0 in questa seconda fase per il Napoli, che affossa ancora di più le contrade, sempre più fanolina di coda, a 0 punti. Pareggio a reti bianche, quello tra Barça e All Blacks. Neri che aggiungono un punto alla classifica blaugrana, che per la seconda volta in questa fase non fanno bottino pieno e si accontentano del pari. Musica diversa nel girone Villarum, Bianchino avanti su tutte grazie al successo con tanto pathos per 3-2 ai danni dei Fornai. Subito dietro ad una sola lunghezza si affaccia l'Hard Devils, che battendo proprio l'ex capolista Etero Jeans con un sonoro 4-2, si porta al ridosso della battistrada e vede sempre vicino il successo finale. Sempre dietro di un punto resta l'Etero Jeans, che comunque sta disputando una fase finale davvero entusiasmante e sorprendente. Tornano a sorridere i Bestioni, che con il ritorno al gol di Esposito hanno la meglio per 3-1 su un San Vito sempre più deficitario. Vince bene anche il Bayern Leverkusen, che si impona con il classico 2-0 sul Brescia Club. Questi risultati alla sesta giornata. Girone Castrum, i Falchi battono l'Olimpia con 5-2, il Napoli batte le contrade 2-0, la Red Bull batte il Bayern Monaco 1-0, All Blacks e Barca 0-0. Girone Villarum, il bianchino batte i Fornai 3-2, Bestioni San Vito 3-1, Bayern Leverkusen con il Brescia Club 2-0, Red Devils e Etero Jeans 4-2. La classifica alla sesta giornata. Girone Castrum, il Bayern Monaco in testa con 13 punti, segue il Barca 11, Red Bull 10, Dinamo Pollino 8, Olimpia con 6, insieme al Blacks e ai Falchi, Napoli 5 punti, le contrade 0. Girone Villarum, il bianchino in testa con 12 punti, segue la Red Devils con 11, l'Etero Jeans 10, il Bayern Leverkusen 8, l'Empero Rassette, i Fornai 6, Bestioni 5, Brescia Club 3, chiude la classifica al San Vito a 0 punti.